Il suono delle sirene delle navi come ultimo saluto è Gidio Benedetto, il gruista scomparso martedì mattina per un incidente sul lavoro nella piattaforma Barbara F. Dell'Eni a largo della costa dorica. Così con un sitino al porto di Ancona le sigle sindacali hanno voluto ricordare il lavoratore, un grido a lutto che lancia anche un monito affinché questi incidenti non ricapitino ancora. Formazione, risorse, mettere a disposizione maggiori risorse da impiegare per quanto riguarda la sicurezza e negli investimenti fare manutenzione dei mezzi, manutenzione delle strutture in continuazione e non risparmiare su queste cose. Il problema vero nel porto sono le interferenze e l'infortunio che è successo ieri lo dimostra perché spesso nello stesso cantiere, nello stesso impianto lavorano più aziende e dove non si comunica rispetto ai piani di sicurezza e quindi succedono maggiormente gli infortuni in questi siti. Quindi su questo noi stiamo lavorando, sulle interferenze. La salma dell'uomo è stata recuperata dal fondo del mare nella notte di mercoledì da un ruolo dei vigili del fuoco. Ora saranno le indagini della magistratura a stabilire le cause dell'incidente. La morte di Gidio Benedetto va a sommarsi alle 1133 vittime sui luoghi di lavoro del 2018. Purtroppo dobbiamo registrare, dopo il fatto avvenuto nei cantieri del terremoto dove è morto recentemente un operaio, un altro fatto che è comunque tragico che riguarda la nostra regione ed è evidente che su questo dovremo lavorare tutti insieme.